amici e guardoni della filosofia ben ritrovati sullo sfondo del video vedete un quadro di un certo albert anker pittore svizzero dell'ottocento pittore di scene di genere qui vedete il suo quadro scuola di paese in germania del 1848 col maestro con la sua bacchetta i banchi alunni di diversa età tutti affollati in una stessa classe classe po po veramente arredata come vedete appesi al muro ci sono attrezzi di vario tipo eccetera ecco la scuola questa grande grande cosa che occupa una grande grande parte della nostra vita perché se ci pensiamo in fondo ponendo che la vita media sugli 80 anni una scuola di questi 80 anni se ne passa una bella fetta se poi fa anche l'università la fetta diventa veramente consistente la scuola è un'istituzione importante se vogliamo anche non troppo antica nella storia delle istituzioni diciamo occidentali europee la scuola di massa sa va san dire le prime scuole di massa compaiono appunto a questa altezza qui nell'ottocento su un po sull'onda dell'illuminismo poi anche del romanticismo e fuori di dubbio e lo abbiamo visto anche noi nella nostra esperienza personale che la scuola nel corso dei decenni è cambiato natura profondamente anche talvolta ed è lontana io suppongo molto lontana anche la scuola che noi stessi abbiamo fatto nella nostra giovinezza almeno per qualità di noi che hanno un'età un po più lunga io 30 quanti anni ho io dunque 31 ne faccio 32 quest'anno esatto io della mia infanzia ricordo per esempio la venerazione assoluta per la maestra che era una specie di entità semidivina a cui si dava del lei e che non aveva quella connotazione materna forse che nella scuola primaria come la si adesso invece di scuola elementare nella scuola primaria di oggi la maestra ma insomma al di là di tutte queste considerazioni vorrei dedicare questo video a una questione a un problema urgente urgente anche soggettivamente per me cioè che urge la mia quotidianità di lavoratore della scuola io al momento sono professore a scuola un istituto professionale e la questione riguarda se le sospensioni il più duro dei provvedimenti disciplinari disponibili diciamo così nel magro arsenale punitivo del docente se le sospensioni dicevo siano uno strumento utile bene capita di sentire spesso che le sospensioni non servano a niente ed in effetti nella mia non lunghissima per la verità pratica di docente devo confermare con una certa amarezza che gli alunni sospesi sospesi per motivi seri per motivi gravi per gravi inadempienze alla disciplina ma gravi davvero eh quando tornano non è che tornino a scuola come dire miracolosamente migliorati e sarebbe anche forse un po ingenuo aspettarsi che degli alunni che sono stati un po teppisti fino a un certo momento dopo quindici giorni o dieci giorni di soggiorno forzato a casa ritornino a scuola così santificati e moralmente irreprensibili ecco una prima cosa che bisogna tenere a mente è che in effetti è cambiata molto la io direi per per restringere un po la questione l'autorevolezza o meglio ancora la percezione dell'autorevolezza del docente è noto che carducci quando era professore d'università a bologna si adoperasse nel famoso lancio del libretto cioè quando uno studente poco preparato si presentava all'esame facendoci una magra figura l'aneddotica vuole che carducci prendeva il libretto universitario adesso i libretti non ci sono più ci sono i registri online anche lì ma il libretto online però carducci prendeva il libretto cartaceo e lo gettava nel corridoio tra le due file di banchi intimando allo studente di andarsene riprendendo il libretto e sparire insomma dalla vista ecco senza andare a scomodare il povero carducci ma sicuramente questo penso che faccia parte come dicevo poco fa della nostra esperienza vissuta comune ecco noi altri percepivamo il docente generalmente non sempre come una figura autorevole come una figura anche degna se volete del timore dello studente ripeto non sempre tutti abbiamo avuto dei docenti che anche nelle così anche nelle situazioni più abbottonate nelle situazioni scolastiche più abbottonate non è che ci ispirassero tutta questa autorevolezza e perciò in classe c'era sempre quel perpetuo prusio di fondo quanto meno la con lanci di gomme di bigliettini e cose di tutti i generi no però diciamo secondo me possiamo convenire sul fatto che negli ultimi tempi la figura del docente è molto meno stimata ritenuta degna appunto di 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 un sano timore di un positivo timore da parte degli studenti prova ne sia prova ne siano anzi i fatti di cronaca di cui si sente tristemente parlare talvolta recentemente quella professoressa impallinata con una pistola aria compressa dagli studenti ecco penso che tutti noi tutti quelli più anagraficamente avanti di noi una scena del genere faccia venire la pelle d'oca no naturalmente scusatemi ancora un po la voce che va naturalmente non voglio fare del passatismo e non voglio fare l'elogio del passato della società autoritaria del passato se la scuola di 20 30 anni fa insomma aveva i suoi meriti che consistevano per esempio appunto in una maggior maggior ordine una maggior disciplina bisogna anche dire che i suoi demeriti ce li aveva e non voglio dire tanto fosse troppo conservatrice nei magari nei metodi no si critica tante volte oggi la lezione frontale come forma superata di insegnamento io ho qualche riserva qua però diciamo sicuramente la scuola di una volta era molto più qualcuno direbbe meritocratica ma sicuramente classista anche involontariamente ma classista della scuola di oggi oggi tutti i ragazzi che hanno vuoi anche per la loro estrazione così sociale svantaggiata dei dei problemi di varia natura insomma vengono accompagnati da docenti di sostegno da educatori eccetera è una scuola che accoglie molto di più e discrimina molto di meno rispetto a quanto non fosse in passato io ricordo delle mie elementari c'erano bambini beh meno come posso dire meno brillanti ecco di altri qualcuno era francamente un po' zuccone ce n'era una le maestre le maestre erano cattive una volta però non cattive ma insomma di una certa erano dotate di una vena sadica le mie avevano un libro io le adoro ancora le porto nel cuore veramente perché il maestro elementare una figura secondo me importantissima mie maestre delle elementari avevano un libro delle perle nel quale annotavano tutte le scempiagini le più le più grossolane degli studenti delle studentesse e ce n'era una che aveva riempito da sola con le sue scempiagini pagine pagine di questo libro delle perle in un caso per esempio nella verifica di geografia c'era la domanda che cos'è il letto del fiume e questa rispose e dove tutti i fiumi vanno a dormire ma a tutte cose così il bambino scienze perché una volta le elementari si facevano delle cose che oggi non si fanno più l'apparato riproduttivo la geografia oggi si fa la geografia vabbè lasciamo perdere questa cosa scienze apparato riproduttivo questa scrisse che non so al bambino dopo insomma dopo il concepimento diventa un peto e non un feto insomma c'erano come ci sono ancora alunni meno brillanti però una volta venivano severamente come dire censurati e messi un po alla berlina avete presente l'immagine dell'alunno con il cappello da asino un po da film americano col cappello da asino costretto sedere dietro la lavagna oggi la scuola diceva molto più inclusiva è molto più attenta alle esigenze educative di ciascuno qui ci sono appunto tanti programmi anche differenziati per alunni dislessici disgrafici con disturbo d'attenzione ci sono tanti strumenti diciamo così per rendere la scuola un ambiente più inclusivo però e qui veniamo al tema dopo questa dopo questa chiacchierata così di misto di ricordi e di riflessioni il tema è questo qui si sospendono gli alunni più problematici no li si vede tornare come tanto come prima e perciò si arriva alla conclusione che sospendere non servirebbe a niente proprio perché gli alunni tornano combinati come prima magari qualcuno potrebbe addirittura dire non solo non serve a niente sospendere ma nuoce è diseducativo perché marginalizza l'alunno che viene sospeso lo lo emargina qui però si impone secondo ed è naturalmente vero questo è naturalmente vero niente da aggiungere però si impone qui una riflessione e guardate a volte il nostro linguaggio le nostre parole come ci fregano come un linguaggio poco chiaro poco trasparente a se stesso possa intorbidare il nostro pensiero del nostro ragionamento in che senso le sospensioni non servono se il senso è quello dell'educatività è vero non servono ma non è forse vero che per un altro se in un altro senso le sospensioni servono e sono anzi molto utili cioè per tutelare il diritto allo studio di tutti quegli altri studenti che vengono costantemente quotidianamente sistematicamente minuto dopo minuto funestati dalla presenza di monelli teppisti in classe perché bisogna pesare le due cose e questo è un dato brutalmente così brutalmente urgente che urge brutalmente alla riflessione di chi lavora nella scuola che cosa ha più peso ha più peso il seguire il più possibile il percorso accidentato di uno studente problematico cercando in tutti i modi di recuperarlo in qualche maniera oppure ha più peso il diritto allo studio degli altri 20 22 25 alunni operosi dirigenti della classe che vogliono studiare sono lì per studiare per apprendere e non lo possono fare o lo fanno peggio di quanto non dovrebbero farlo perché in classe c'è qualcuno che durante le lezioni tiene il cellulare a palla fischia dai pugni sul tavolo cose di questo tipo che ahimè si vedono molto più spesso di quanto uno non vorrebbe questa è una riflessione seria che bisogna porsi ed è una riflessione che investe la il il senso cioè lo scopo dell'istituzione scolastica perché se noi diciamo che gli alunni non possono essere sospesi in quanto chi viene sospeso non ne trae beneficio se noi diciamo questo allora stiamo presupponendo che lo scopo della scuola sia quello di essere perdonatemi la affermazione enorme ma sia quello di essere una specie di casa di cura in cui ciascuno come dire deve essere tenuto lì gestito di modo da limitare il più possibile i danni in qualche maniera ma è questo il senso della scuola o il senso della scuola è quello di provvedere una una istruzione e un'educazione magari ma almeno un'istruzione cioè insegnare delle cose oggi si insiste tanto anche da da parte del ministero sulla dialettica tra le conoscenze e le competenze la scuola non dovrebbe solo impartire delle conoscenze e quindi insegnarti quando è stata distrutta cartagine che cos'è un diodo che cosa sono gli integrali dove si trova venezia dovrebbe anche insegnarti delle impartirti insegnarti delle competenze cioè un saper fare che significa tante cose naturalmente un saper studiare autonomamente per esempio un saper produrre un testo autonomamente o anche che so un saper stare con gli altri quindi un imparare anche le virtù civiche se volete tant'è che a scuola si fa educazione civica quindi la scuola dovrebbe insegnarti non solo appunto quando è stata distrutta cartagine ma anche che non devi bere quando guidi e che devi stare in modo civile insieme agli altri non devi fare del bullismo cosa di questo tipo ora è tutto vero ed è tutto giusto naturalmente però a un certo momento si impone una scelta ahimè la scelta si impone perché il paradosso la contraddizione è evidente e non è possibile tenere il piede in due scarpe né avere come vuole il famoso detto la moglie ubriaca e la botte piena la nostra costituzione dice che la pena deve riducare la nostra scuola anche ispirata dal dalla teoria della pena se volete dalla teoria diciamo così dalla concezione del diritto e delle istituzioni che emana dalla carta costituzionale la nostra scuola ha fatto proprio negli anni sempre di più questo questa missione dell'inclusione del recupero questo è giusto questo è vero però anche uso una metafora anche dio che ama ugualmente e assolutamente tutti gli uomini ha previsto un inferno per quegli uomini che dell'amore di dio non vogliono saperne nulla cioè signori e signore talvolta dobbiamo arrenderci onestamente davanti alla solare evidenza per cui ci sono persone che non possono essere aiutate quanto meno con gli strumenti di cui disponiamo noi e perciò la scuola non può io penso ed è un pensiero triste un pensiero che uno esplicita malincuore naturalmente ma penso che la scuola in tutta buona fede non possa farsi carico sulle proprie spalle come atlante si faceva carico del cielo sulle proprie spalle che la scuola non possa farsi carico di tutti i disagi del mondo giovanile è un tema veramente è veramente mi dispiace quasi affrontarlo vuoi perché non vorrei fare la figura di quello che dice tutti gli alunni un po meno performanti vanno emarginati no non è questo quello che voglio dire né voglio dire che la scuola debba tornare a essere una specie di piramide classista in cui pochissimi fanno liceo diventano la classe dirigente del futuro gli altri devono fare i cuochi come dire che i cuochi siano dei deficienti non è assolutamente vero nessuno di queste cose verano però ciò non di meno si impone qui una riflessione e la riflessione conduce a un paradosso stiamo appresso a uno e perdiamo tutti o lasciamo andare alla deriva quell'uno si impone io trovo si impone la soluzione pragmatica quell'uno deve essere lasciato andare alla deriva se se il suo mantenimento lì in classe comporta la perdita di tutti gli altri però allora e qui e qui forse c'è una prospettiva che andrebbe considerata una prospettiva di soluzione che andrebbe considerata bisogna intendersi su appunto sul senso della scuola che io trovo debba essere quello di istruire delle persone e visto che nel mondo in cui viviamo che un mondo strano è un mondo liquido come qualcuno dice è un mondo molto meno sicuro molto meno stabile del mondo in cui anche per esempio io sono nato io sono del 91 mi ricordo un'infanzia che aveva un orizzonte molto ben definito molto stabile una famiglia che lavora la piccola borghesia dei valori fissi oggi è tutto in discussione la stessa famiglia in discussione la stessa classe classe borghese in italia insomma non se la passa così bene la sessualità in discussione il mondo del lavoro in discussione quindi è ovvio che ci sia un mondo un mondo più difficile psicologicamente di quanto magari non lo fosse il nostro nel passato però proprio perché c'è un monte e quindi questo mondo difficile naturalmente produce di maggior disagio nei giovani nei ragazzi ma proprio per questi motivi qui bisognerebbe e questo però qui passiamo dalla filosofia alla politica davvero allora bisognerebbe che ci fosse una riflessione politica una volontà politica di approntare degli strumenti per tamponare o magari anche risolvere questo questo disagio giovanile perché vedete se qualche imbecille io non vorrei far politica qua non mi interessa io sono abbastanza politico però se qualche imbecille pensa di fare il ministero della natalità perché bisogna aumentare il tasso di fertilità della vacca sembra questo no un po la vacca deve far più vitellini sembra un po questa la il retro pensiero ecco se uno si pensa di dover fare il ministero della natalità di aumentare il tasso di nascita e però non si preoccupa di di produrre di procurare un mondo decoroso e stabile per fornire uno sviluppo psichico ed esistenziale stabile a questi vitellini che si propone di far nascere e qui c'è un problema di fondo io non so che cosa posso fare lo stato per affrontare una volta per tutte seriamente il disagio delle fasce più giovani della popolazione sicuramente lo sport aiuta sicuramente la la socievolezza e la socialità aiutano perché in fondo aveva ragione il vecchio aristotele che siamo a dire che siamo animali animali socievoli sociali aveva ragione aveva ragione gli antichi quando dicevano che la nostra mente sana se il corpo è sano e lo vediamo anche noi perché un po di movimento fisico un po di attività sportiva ccc ci fa stare bene ci insegna a star con gli altri ci insegna delle regole quindi lo sport per esempio la socialità per esempio un maggiore una maggiore frequentazione dell'arte e della bellezza per esempio potrebbero essere strumenti che lo stato può aprontare per aiutare i ragazzi le generazioni più giovani a vivere meglio io non vorrei essere un 12enne 13enne oggi avrei paura essere un 12enne un 15enne oggi avrei francamente paura adesso non voglio sembrare troppo pessimista per l'amor del cielo il nostro mondo moderno ci dà tantissime risorse che una volta non avevamo però bisogna anche saperle usare queste risorse qui perché altrimenti uno passa la giornata come si vede in classe a scrollare come si dice i reel su instagram su tik tok a diventare da uomo che è a diventare un paio di occhi e un pollice che fa giù su giù su giù su giù su bene ecco così vi propongo queste riflessioni mi piacerebbe sentire anche il vostro pensiero come sempre spero di avervi detto delle cose interessanti vi ho detto delle cose in tutta franchezza vi invito vabbè fatemi fare il venditore di pentole a mettere like e iscrivervi al canale vi saluto molto caramente ricordandovi come sempre di fare i bravi di fare molto molto i bravi vi saluto molto i bravi di fare 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 anche il vostro pensiero